C'è dentro il cuore di ognuno di noi c'è il desiderio di trovare un amore per cui vivere. Non sappiamo come questo possa avvenire, non lo sappiamo finché non lo incontriamo. You were a star up in the clouds, and when our eyes they finally met, I could see our story once again. Davide e Giorgia sono stati consegnati uno all'altro. Avevano nel cuore un desiderio di incontrare una persona che fosse l'amore della loro vita. E questo è successo. Tante persone avete incontrato, tante ne avete viste, però alla fine c'è una sola che corrisponde, risponde al cuore. Sta all'altezza del cuore. Io Davide accolgo te e Giorgia come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Giorgia, accolgo te, Davide, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. È credere che Dio, che è amore, fa una promessa alla mia vita, perché io trovi un amore per vivere. E voi siete qui perché questo l'avete trovato. Grazie a tutti. Giorgia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Davide, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!